Come tutti sapete il nuovo Hulk Booster è arrivato, eccolo qua E come si potrà ottenere lo scopriamo in questo video Beh si ragazzi è disponibile un nuovo bundle skin gratis E oggi andiamo a parlare di come si sbloccherà Perché molti di voi mi hanno fatto delle domande particolari su questo bundle E oggi sono qui per andarvi a rispondere Io vi invito a lasciare un bel like e vi do 5 secondi Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Vai a lasciare in questo momento un bellissimo like Se anche tu vuoi questa nuovissima skin di Iron Man Beh ragazzi quindi le domande sono Ma io posso ottenere gratuitamente tutto il bundle Soltanto la skin o magari la skin e qualcos'altro Beh sono oggi qui per andarvi a rispondere a queste domande Nel video di ieri se volete raga la potete andare a guardare Abbiamo detto che questo nuovo bundle si può riscattare Attraverso delle missioni Attraverso acquistando i vari libri I 5 libri Questo qua di Quindi il primo fumetto con la skin di Spider-Man Il secondo è questo qui Il terzo gli artiglie Quarto e più quinto questa schermata di caricamento Ma poi una volta comprati voi direte Come faccio a ricevere queste skin? Come tutti saprete quando voi avrete acquistato Probabilmente questi fumetti E uscito al loro interno un codice Voi se avete messo tutti questi codici Avete comprato tutti i fumetti Magicamente vi uscirà questa skin nel vostro armaietto Quindi può darsi che non ve ne siete accorti Magari andate a controllare Se per caso avete già preso tutte le cose Tutti i codici L'avete già riscattati Che può darsi che il motivo per cui non avete ricevuto questa skin È questo Perché no non c'è un sesto codice Un ulteriore codice che dovrete utilizzare Per ricevere questa skin Sì attraverso questi libbi potrete ottenere Soltanto la skin e non il bundle Il bundle uscirà prossimamente Ora non mi ricordo quanto Nel negozio oggetti di Fortnite Però non penso che uscirà quella skin Poi sarà da scoprire Ma al momento potete ottenere la skin in questo momento Ma c'è anche un modo per ricevere Appunto questa skin Senza comprare tutti questi fumetti E qui ci aiuta il sito Così chiamato Eneba.com Andate su questo sito Trovate tantissime oggetti di Fortnite Tra cui andate qui a cercare quel bundle Come qua già vedete Gli outfit Quindi potete prenderli anche da qua Ma io vi consiglio Di vendere direttamente la skin Oppure di comprare i fumetti reali Per essere sicuri Che poi riceverete la skin E non vi preoccupate che è un sito affidabile Che l'ho utilizzato già io per altre volte Per fare i vostri regali A fare dei regali a voi Quindi ragazzi cosa aspettate Lasciate un bel like Fate sapere questa cosa a tutti i vostri amici Se volete ottenere questa skin Premete il calcio nello schermo Per vedere un video Su come ricevere i VBAC gratis E noi ci vediamo ad un prossimo video Bye Bye